Arpa esce da Sistema SPA, praticamente questa azienda viene privatizzata, gli effetti sono almeno 40 lavoratori che vanno a casa. Di cosa si occupa Sistema SPA? Sistema SPA è una società del gruppo Arpa che si occupa dei servizi complementari della società Arpa, quindi servizi di pulimento, servizi di distribuzione di titoli di viaggio, servizi di call center. Arpa ha deciso di dismettere, c'erano state garanzie su livelli occupazionali ed invece siete qui questa mattina davanti alla sede di Chieti a protestare. Sì, infatti sia l'assessore Morra che lo stesso presidente Cirulli con questa operazione avevano assicurato un futuro per i lavoratori di questa società. Adesso abbiamo capito di che futuro si tratta, si tratta di un futuro fatto di disoccupazione purtroppo. Quali sono i margi di dialogo, quali possono essere le prospettive, lo ricordiamo stiamo parlando di almeno 40 lavoratori? Al momento le prospettive, di prospettive non ci sono, non è un caso che oggi i lavoratori della società Sistema scioperano per la terza volta dopo lo sciopero già effettuato nel mese di aprile e nel mese di maggio. Abbiamo già ricevuto una convocazione da parte della direzione territoriale del lavoro dove in pratica c'è stato prospettato l'esigenza di riorganizzare i servizi e probabilmente di ridurre l'occupazione della società.